Un'oasi naturalistica alle porte di Moncalvo, tra la cittadina Aleramica e il santuario di Crea. 70 ettari, tutti accorpati. Quindi dal punto di vista paesaggistico sembra incredibile che ci sia ancora qualche proprietà nel nostro antropizzato Piemonte di queste dimensioni e con queste caratteristiche, oltre che con la vista sul Monte Rosa che rilassa sempre gli occhi della mente e del cuore. 3 ettari di vigneto, grignolino e barbera, coltivati con criteri a biodinamico. 3 ettari e mezzo di noccioleto, 6 ettari di seminativo, poi frutteto, bosco e altri terreni ben recuperabili alla coltivazione o alla silvicoltura.